All I want for Christmas is... Avvinde! Avvinde! I don't want a lot of... Ecco qui la prima caro scintina Don't care about the present... Ha perduto un seo di stelle I don't need to hang my stuff It's a lot of... That's a lot of... I don't want to make me happy I don't want to make me happy I don't want to make me happy Ma allora muergeci i binetti In piatta o for a por? In tutti i netti in là Canavini di por... Asensate... Fluente... Oooo... Ohhhh... Muti, Fieri e Nadelle... puntata speciale Ettore come l'andello il debutto teatrale non era un debutto ma è andato bene comunque è andato bene, non ti hanno debutato fuori? no, per adesso no sono proprio breve io ho quel che mi hanno detto no Ettore che vuol dire i pompieri perché io ero un entusiasmo un entusiasmo perché la sapevo più in cosa una fumetta chiediamo alla Patrizia che era in prima fila benissimo allora, siamo a Parnadella ma no ma chi l'avrà mai detto guarda qua come si ha messo e con i regali non si ha messo con i regali ah boh no no la rena la rena sempre la rena la famosa osteria della rana un po' di mondi però non è però qualche cosina si catta fuori ma siamo un popolo di arrangiatori se o no stasera stasera ha smaglia si ma smaglia anche a Mizzere perché stasera 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 c'è il cenone Ettore che sarebbe attenzione cosa? il cenone ha sveppato un po' di mondi ma siccome non è studiando a Mizzere ha fatto anche il cenone che avrei un po' di soldi ad andare a mano sulla notte in Nadella comunque io ho una ricetta mi racconta la bambina sia per Nadella che parlano di una cosa mi racconta sì volete sentirla? mi racconta posso? alle arzore sì sì ed è solo per donne sentiamo qui per le quote rosa le quote rosa dai vado parto? vado vado in stile satanadella hai vuoi dare un quel special un rimedio per tutta l'anno che fa passare tutti i malani un decode e le sicure che fanno dare le antiche ardure alle alle che fanno venire un gran mur anche se aveva un mare molto segno aia adesso mi racconta con l'arte da misturare con dal savate però di cordonetta aia a fitte leini come se fosse un taglio di leini da uvso e un pezzo di salam da insaporire dentro l'aldame poi mettere la nostra mosca infine avvia a volontà una bottiglia di arzanel prendere mei al budel e a me mande per tridè farsi mi dare tutta il mare e finché tutto il necote vuoi smirare con un zuvnot e avrei quanta versura specialmente al mare al dur al fè avanzare dentro l'anela e tu che dai la sirudella ma è una specialità questa me lo provai risultati non ti possiamo al fiato dopo ascolta mi però io che a te un'altra specialità la diamo anche questa questa qui a posto questa parla per la ricetta originelle della grattachecca i volpug e ninti già stridè e zoccher in più hai un tè frutta sirope e manta a marina e qualche a per è un prodotto esotico a per no? si qui però provai la giusta consistenza le miei avrai a disposizione ognet chiusvei con la manuvela per tridere al jazz e brisa pensare e fare come consieda la canzonata che l'andeva ed muda un tante tridere al jazz col tridere al jazz con il mondo al buro e tre poche sversure affinché il jazz al dura alla fin di cont le buone cose a druver che l'ambeche lettr che tutti diciamo in frulladur però in queste case qui fanno in modo di far arscaldare un pochino il jazz e che bene in questo momento e drena la grattachecca le argomande per essere un sguigio economico ecologico e sicuramente la franir al scramlese per la vetta qui c'è un settore buona pittà questa è una ricetta per il nadeil non so ma per il nadeil per il calore per il calore e dal nadeil allora ragazzi andiamo con gli eventi andiamo con gli eventi partisco partiamo io mi assento un attimo a tu ragazzi da domenica 25 novembre al dead nadeil la compagnia Lanzarini sarà il teatro consorziale di Budrio alle ore 21 con mo che fati idea comedia brillante tratta da una dosina di Rose Scarlatte di Aldo De Benedetti con Carla Stolfi Patrice Strassari Paolo Massacurati e Gian Piero Volpi ecco poi attacando anche a Dero e vegli appuntamenti per l'Utunglan eh per gli amanti del dialetto cosa succede l'ultimo dell'anno al Cinema Galliera allora via Cinema Galliera di via Matteotti 27 è stata la cisa del Sacro Cuore per intenderci la compagnia Lanzarini presenterà e te chi it seguirà un grande buffet per prenotazioni telefonare a 051 63 13 808 ascolta un quel gran buffet gran buffet si scurante buffet buffet così il gran buffet ah non lo so sarà la grattachecca sarà meglio la grattachecca la risetta miracolaus se vuole un'etra idea per la sera di San Silvestro le quali ad andare agli alemanni con la comedia in italiano però però molto comica baciami stupido seguirà Brindisi oroscopo 2012 letto dalla grande Carla Stolfi perché un po' il briser derfora l'ultimo dell'anno o l'acqua letter da fare ricordate che la compagnia la compagnia Lanzarini sarà al teatro alle manni anche il primo dell'anno sempre con la comedia e tecchi it alle ore 16 ecco allora vi volevo tornare un pochino sulla questione del gran buffet perché l'importanza va che se uno va al cinema galliera l'ultimo dell'anno o al teatro alle manni ma il clavag a smagno a smagno allora voi in giro sai c'è il patè de foie gras champagne a fiumi champagne a fiumi sì sì un po' l'ultimo 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 anche i mandaranti i mandareni se vai allora siamo a posto allora il panettone anche il panettone il pandoro al pandoro è tutto qualche quantalmente è tutto bianco perché è infatti tutto il zucchero vino però al pandoro le qualche alcaste l'anasobrisa perché sempre in periodo di rana di nessun ragazzù champagne sì ma il pandoro no me lo direi comunque adesso se ti d'accordo se dicessimo alla regia di mandare per la serie gente e mondi diversi dal nostro qualche succede nel periodo natalizio in altri paesi e me ha crato che Matteo le va messi insieme Aldo pensa a come ci intitoliamo notizieri buonese ed intorni quindi qui vanno quelle di New York vai con New York Matteo New York New York da 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 dim dong Grazie per la visione 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 Grazie per la visione